Potentissima preghiera a Maria per contrastare le insidie del male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. O Immacolata Vergine, Madre di Dio e Madre Nostra, Regina degli Angeli, accogli le mie accorate suppliche presentale al Trono dell'Altissimo. Tu hai ricevuto da Dio la missione di schiacciare, attraverso il tuo Divin Figlio, il Capo Orgoglioso di Satana. Perciò ti ha reso immacolata, fin dalla tua concezione e ti ha riempito di grazia. Così tu puoi facilitare in noi l'azione redentrice del Cristo e la discesa del suo sangue prezioso nelle anime nostre. Ti supplichiamo, ora, che tu ci ottenga da Dio l'invio dei Santi Angeli, perché respingano i demoni tentatori, ne svellino gli inganni, ne reprimano l'audacia e li ricaccino nell'inferno. Ottienici dalla misericordia divina che possiamo sentire nel nostro animo la risonanza del grido di adesione al nostro Dio, che segnò il vittorioso intervento di esse Michele chi è come Dio? Aiutacci, o Madre Amorosa, a diventare più umili al cospetto di Dio e degli uomini. Aiutacci a divenire sempre più decisi a respingere gli assalti dell'impurità e della cupidigia. Aiutacci a mantenerci fedeli e solleciti nelle preghiere. Aiutacci ad accrescere il desiderio alla esse messa e alla esse comunione. Aiutacci ad amare il nostro prossimo, a vivere in pace con tutti, a perdonare le onfese e le incomprensioni, così da offrire al cuore del tuo Gesù la gioia di vederci attuare il suo messaggio evangelico. Sotto il tuo manto di misericordia ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio, sicuri di essere da te difesi dalle molteplici insidie del diavolo. Custodisci in noi la fede, l'amore di Dio, lo zelo per la sua gloria, l'osservanza della sua santa legge e delle direttive evangeliche. Infine, o Madre Dolcissima, ti supplichiamo di assisterci nel momento estremo della vita. Per difenderci dalle maligne insinuazioni del nemico infernale e farci restare fiduciosi nella paterna bontà di Dio. Confidiamo di poter entrare nel Gaudio Eterno del Cielo, per cantare in eterno la Divina Misericordia. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria. Piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.